Buonasera, di fronte alle sue fotografie che documentano e non pubblicizzano il mondo sono in molti ad avere dei problemi, la censura, le censure innanzitutto ma poi anche tutti noi, perché la sua opera finisce sempre per interpellarci con una domanda, ma tu che ne pensi, tu da che parte stai, la colpa o il merito, dipendenza dai punti di vista, è tutta di Oliviero Toscani, buonasera e benvenuto, benvenuto, bentornato, possiamo dire in Svizzera, cioè, intanto la frequenta ha studiato a Zurigo, la Kunstgewerbe Schule, era un ragazzo partito da Milano senza il tedesco, come mai andare a Zurigo a studiare, cosa dice il papà fedele toscani, fotografo anche lui? Beh, era la scuola, credo sia ancora tuttora, sono stato la settimana scorsa, è sempre formidabile, era la scuola più impegnativa, ma anche la più interessante in quel periodo storico, e quindi ho provato, e poi devo dire, non sai la lingua, perfetto, ne impari una nuova, no? Si imparano nuovi modi per esprimersi anche, che non sono quelli verbali, per esempio, o no? No, ma poi impari a ragionare un po' con una marcia in più, capisci delle cose, dovrebbe essere obbligatorio andare a fare una scuola che ha una lingua diversa, che parla una lingua diversa. E mandare altrove ragazzi a studiare? Si, si, è proprio obbligatorio, via dalle mamme, soprattutto i ragazzi italiani, via dalle mamme, certo. Allora, e via dalle papà, no, come ha vissuto? Perché Fedele Toscani, papà di Oliviero Toscani, è stato un fotografo celeberimo, uno forse dei primi fotoreporter in Italia al Corriere della Sera, sono sue le fotografie celebri di Indro Montanelli nel corridoio del Sofferino, Miss Italia, le guerre, Mussolini, Piazzale Loreto, i giri d'Italia, i coppi, i bar, allora non c'era televisione, c'erano le fotografie sul giornale. È complesso edipico o mai avuto Oliviero Toscani nei confronti di Fedele? No, perché, no, perché in fondo mio padre era un artigiano, io mi ricordo quando andavo in quinta elementare, per esempio, mi stia fatto papà, dicevo fotografo, insomma, chi diceva, diceva, ma mio papà è impiegato, impiegato, secondo me aveva uno status maggiore di chi era figlio fotografo, quindi non è mai stata una cosa così da complessi, assolutamente. poi ho una sorella maggiore, dieci anni più di me, che anche lei fotografa, quindi siamo una famiglia artigiani. Eh, quindi in artigiano, insomma, uno prende il messiere del padre, mica un problema. Io credo che dovrebbe essere così, perché non è male, cioè, conosci delle cose, quando poi studi, non so, io ho un cucciolo, Border Collie, no? Border Collie curano le pecore, l'altro giorno lo lasciano nel prato e lui già sapeva a sette mesi che si correva con le pecore, sapeva già, perché il papà, il nonno, quindi credo sia, fare il messiere del padre dovrebbe essere quasi obbligatorio. Nei paesi del blocco sovietico invece lo vietavano tassativamente. Infatti sono falliti. Perché appunto? Va beh, allora, abbiamo già messo sul tavolo qualche argomento. Olivero Toscani, l'imperatore, la morte, l'amore, la fortuna, il matto oppure l'eremita, oggi da chi si fa accompagnare? È un bel gruppo. Anche se poi lei ci è sempre andato con la sua faccia, eh, di fronte a tutto, no? Questo chi è il secondo colpo? Questa è la morte. Perché ha il sombrero? Perché tarocchi messicani, suona anche il violino. Ma ci sono due cose interessanti nella vita, il sesso e la morte. E allora scegliamo... Due temi... Eh no, il sesso non c'è, c'è l'amore. C'è l'amore, che è una variante del sesso? O il sesso è una variante dell'amore? No, beh, è un'attività dell'amore, direi. O la morte o l'amore, sono molto simili. Possiamo, cominciamo con? Andiamo in ordine alfabetico, amore. Amore, et voilà. L'amore. E poi per amore che lei ha deciso di raccontare quelle zone d'ombra dell'umanità, e per amore del prossimo, per amore dell'uomo e dell'umanità, che lei ha fotografato gli albanesi che sbarcavano a Bari, che ha fotografato i condannati a morte, che ha fotografato i malati di AIDS, che ha fotografato Isabel Carro, questa attrice per l'anoressico. Ma non so se... In fondo l'unica cosa interessante... Cioè io non faccio fotografie di paesaggi, la Svizzera è bellissima, sono le montagne, la neve, ma io non faccio quelle fotografie lì. La natura è perfetta. L'unica imperfezione alla natura è l'essere umano. Infatti in una casa noi possiamo ancora creare, questo è un disastro anche, è stato anche un grande problema per il mondo, il fatto che noi possiamo ancora creare. E quindi mi interessa l'umanità, l'umanità più che l'amore. L'umanità io credo che debba diventare il grande progetto del futuro dell'essere umano. e dovrebbe essere questo il punto da studiare, da vedere, da approfondire. Proprio l'umanità. Ed è ottimista o pessimista a riguardo? Ottimista. Una volta ci si incontrava, ci si ammazzava, si girava con la spada, ci erano ancora armati qualcuno, insomma adesso un po' meno. Solo che adesso siamo molto più informati di tutto quello che succede. Allora sembra che siano molto di più le violenze, ma io non credo siano di più di una volta. Non credo. No. Allora, partiamo. Sì. Con il dado. Il dado, il cascato d'amore. Il cascato d'amore. Poi si ripete, succede. I desideri. Siamo sui desideri. Allora qui... Devo girare? Sì, va bene. Può diventare una roba... La giriamo, giriamo. Sennò il regista mi grida. I desideri non hanno morale, attenzione. I desideri non hanno morale. E possono non avere morale. Allora, i desideri, Olivero Toscani ne ha fatte tante. È un pozzo. È un pozzo. Il pozzo dei desideri. Però lei ha fatto quello che ha desiderato nella vita. Alla fine lei, diciamo, non è proprio di primo pelo. Siamo nel 42, possiamo dirlo. Non soffende. Come no? Anzi, la vecchiaia è... È il castigo di essere ancora vivi. È un nome che conta, quello di Olivero Toscani. È un nome che ha fatto tante cose, ha fatto discutere, ha fatto scandali. E ha fatto quello che ha desiderato, in fondo, Olivero Toscani. Cosa si sente di rispondere, così a brucia pelo? No, ma io non credo che faccia le cose perché... Io ho quello che desidero è la mia libertà. È la libertà. La libertà è per me... Non la libertà, non so ancora cosa sia, ma è la ricerca della libertà. E io per essere libero mi devo incatenare a un progetti. Se lì mi devo incatenare a un progetto. Allora, quando io misuro se sono abbastanza intelligente, se ho abbastanza talento, se ho abbastanza voglia, la pigrizia, la capacità, anche fisica, quando riesco a misurare questo, allora mi libero, mi sento libero. Allora, secondo me, la libertà è capire i propri limiti. Allora, uno non ha più problemi di dimostrare niente a nessuno, non è che voglio essere più bravo di quello che sono. No, non voglio essere più bravo di quello che sono. Incatenarsi a qualcosa che cosa intende? Un progetto. Un progetto vuol dire anche un cliente, vuol dire lavoro. Ma non è io che abbia avuto clienti. Lavoro per qualcuno, si lavora sempre per qualcuno. per un'umanità, no? È chiaro. Anche l'architetto ha bisogno di limiti per costruire. Sennò la casa in mezzo al deserto uno... E soprattutto la qualità dell'architettura o di qualsiasi lavoro dipende dall'intelligenza del committente. Ecco, io ho avuto dei committenti. Sì, intelligenti. Eh, bisogna trovarli così. Infatti uno deve cercare il proprio committente. È inutile lavorare con qualcuno che non rispetti. C'è un cliente che non capisce niente. È colpa tua. Te lo meriti. Vuol dire che anche tu capisci poco. E quindi è quel connubio che fa la fertilità di un progetto. Quindi Olivero Toscani voleva raccontare ciò che la società spesso fa finta di non vedere o ignora. Aveva bisogno di qualcuno. Allora, ecco, United Colors of Benetton. Sì, beh, non solamente lui perché i giornali, i giornali di moda. Io non ho mai usato... È come Ulisse che pensa al cavallo di Troia. Cioè deve trovare qualcosa per sfondare. Sennò si rimane lì da soli a fare San Simón e Simón. No, no, ci sono le possibilità. È chiaro, io lavoro nel mondo della comunicazione. Il mondo della comunicazione va scoperto, va visto. Quali possono essere delle possibilità anche alternative, no? E quindi ho pensato subito che cosa non è pubblicità. Cioè la Cappella Sistina, che cos'è? È la pubblicità della chiesa. C'era un papa che diceva, voglio... Allora non c'erano le giornali, le televisioni, le cinema, niente. Non c'erano immagini. Uno entrava in una chiesa e mi era sbalordito. Guardare queste immagini, queste facce. È la più alta forma di comunicazione, l'arte. Era quella la forma di comunicazione. Quindi la chiesa si è imposta... Perché proprio in un periodo dove l'unico posto dove si vedevano le immagini era in chiesa. Non solamente immagini normali. Poi pigliavano i Michelangeli, pigliavano della gente abbastanza brava, insomma, no? E quindi avevamo capito che la comunicazione è la vera realtà. Perché dobbiamo renderci conto di questo. A giorno d'oggi non viviamo la realtà. Viviamo tutto mediato dalla comunicazione. E ve lo dico da fotografo. Che ormai il 98% di quello che conosciamo, circa, lo conosciamo perché abbiamo visto fotografie. Neanche tanto film o filmati, ma immagini singole. Dalle grotte di Lascaux fino alle fotografie di Toscani, passando da Caravaggio. L'immagine fissa regge nel tempo. E vediamo la stessa immagine e abbiamo opinioni opposte. È strano. Quindi diventa interessante. Si diceva da che parte stai. Poi ne parliamo. Andiamo oltre ai desideri che è un pozzo. Potremmo stare sui desideri tutta la puntata. Facciamo 5 e andiamo avanti. 1, 2, 3, 4. Il lavoro. Ecco, siamo sul lavoro. Vabbè, cioè uno basta. Ci si esprime lavorando. Ci si esprime lavorando, sì. E qual è stata la prima vera rivoluzione che ha attuato nel mondo della comunicazione di Vero Toscani? La storia parla... Gli studiosi di storia, fotografia, costumi, eccetera, eccetera, dicono la famosa pubblicità dei jeans jeans, jeans jeans, jeans jeans, 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 jeans. È lì che ha spaccato, come si dice in gergo. E lì mi sono reso conto che l'immagine è quella che conta. Non è che uno guarda un'immagine e non va a comprare i prodotti. L'immagine è un'immagine. Fa riflettere. L'immagine, come dico, la forza della fotografia è il suo silenzio. E quando guardiamo la televisione, per esempio, visto che siamo in televisione, sentiamo un suono, qualcuno racconta, c'è una storia, c'è anche una conclusione, c'è anche una morale in fondo. Quindi la nostra coscienza non viene ingaggiata direttamente. Mentre in fondo è una foto ferma, siamo noi che in silenzio deve fare un ragionamento e dire io dove sto, che responsabilità ho socialmente, umanamente, eticamente, moralmente, di fronte a quello che sto guardando. E quindi, lavorando, in fondo il mio mestiere è essere testimone del mio tempo, sono testimone del mio tempo, della mia generazione. Ecco cosa ho fatto. Fare la fotografia giusta al momento giusto. Io sono stato il primo a riflettere come mai è così o come mai non è così. Ero il primo curioso di sapere perché l'anoressica, perché l'anoressia, facendo fotografie di moda, mi sono reso conto che ultimamente queste ragazze qua arrivavano a un disastro, inguardabili, intoccabili. Mentre le ragazze di prima non erano male. Allora uno si rende curioso di cosa sta succedendo. Ma cos'è questa magrezza? Da dove arriva? E allora mi sono interessato, ho fatto anche un film e ho passato anche a Locarno. Sì, ho passato a Fessio di Locarno, la storia di questa fotografia, che è uno dei tanti casi che ha suscitato scandale e polemiche. Allora i detrattori di Toscani dicono, ecco, lui è uno sciacallo che sfrutta, che sfrutta le disgrazie del mondo per vendere i maglioni di Benetton. Non è l'architetto che fa il grattacielo per la Coca-Cola, sfrutta la Coca-Cola, fa l'architetto. Io ho sfruttato la comunicazione per dire delle cose che forse se fossero passate editorialmente nessuno le avrebbe viste. Proprio il fatto di far vedere le cose da un'altra angolazione ha creato l'attenzione. Lei non sempre è stato capito dalla società civile, dalla critica, non sempre. O per esempio anche dal mondo ripubblicitare. Però in famiglia è stato capito sempre, ha avuto sostegno, in famiglia dei suoi affetti. Sì, io sono stato un uomo particolarmente privilegiato qua, infortunato. Ma sai il fatto che i pubblicitari non mi abbiano dato ragione? Quando tutti i pubblicitari, se tutti i pubblicitari o comunque chi era contrario ma avesse dato ragione avrebbe cominciato a pensare ad aver torto. E se i pubblicitari danno ragione vuol dire che stai facendo qualcosa di banale. Appunto, Olivero Toscani non è un pubblicitario, questo lo si può dire. Mai lavorato per un'agenzia pubblicitaria, vita mia. Non so neanche come funziona questo sistema. Non ha mai fotografato prodotti, per esempio? Sì, i prodotti hanno senso in rapporto a quello che sto facendo. Ma da quando esiste la parola marketing, esiste la crisi dell'arte. Gli uomini marketing, anche le donne, sono la rovina della società. La rovina. Ma perché i pubblicitari tendono, adesso io non vorrei prendermi e offendere i pubblicitari, però ogni tanto non è che raccontano sempre la verità. Non si possono offendere i pubblicitari perché come fa? Perché ci hanno raccontato che la Volkswagen... Una cosa brutta, se è brutta non è che la offende brutta. Quindi ci hanno raccontato che la Volkswagen era una macchina ecologica. No, a parte la Volkswagen ci sono tante quelle palle. Ma a parte le bugie, loro si vendono per le noccioline, insomma. Non hanno un punto di vista vero, umano. Non interessa l'umanità. Loro appartengono al mondo dell'economia, dello sfruttamento, del consumo. Io credo che all'essere umano sia interessato in cose più interessanti, no? Certo. Allora, andiamo oltre il lavoro, Olivero Toscani. Sempre uno. Sempre uno e finiamo sul nido d'amore. Oh, che non è male. E non è male. Perché non è male? Ho sei figli. Hai scelto l'amore. Ho sei figli. Sei figli. Con tre signore. Se ne c'è. Adesso avrò il quattordicesimo nipote. E che nonno è, Olivero Toscani. Mi faccio chiamare per nome, se posso. Ed è e li porta a cavallo nella tenuta in Toscana. A settembre, alla fine delle vacanze, perché passano tutti lì, sono stanchissimo. Perché vogliono andare al mare, vogliono andare al cinema, vogliono andare a cavallo, vogliono andare in bicicletta. E uno sta lì a... non puoi discriminare, no? Poi, sono l'unico a avere solamente il passaporto italiano fra tutte le mie moglie e tutti i miei figli. Loro hanno il passaporto italiano più il loro passaporto del loro paese. Quindi a casa mia si parla, quando sono lì si parlano in francese, in inglese, un po' in tedesco. C'è ciò di americani, dei francesi, insomma. Vino, olio e alle varie cavalli. Sì. Questo era il sogno di una vita. Per uno che ha vissuto a New York, Milano, Zurigo, mezzo di Scania, non è un ritiro. Ma no, no, ritiro. No, io morirò lavorando, facendo il lavoro che so fare. Il vino, sì, si chiamano i tecnici bravissimi. Qualcuno dice, ah, Toscani, qualche pubblico, lo che faccia le fotografie fa il vino. No, quelli del vino mi dicono così e gli altri dicono il contrario. Ma io non faccio il vino. Il vino, a giorno d'oggi, sono dei tecnici bravissimi che fanno il vino. Lo fanno sul mio terreno e sono io che finanzio. Io sono il committente, ecco. È così come alle varie cavalli. Sì, no, mi piace, però devo dire che ho un occhio per scegliere la qualità del cavallo. Solamente a guardare quando camminano nel prato. Ma c'era anche un famoso scatto di Olivero Toscani per la United Colors. E i miei due cavalli. Era il cavallo. Due cavalli, sì, la coppia. Com'era? Chi stava all'esplorio? Erano due miei cavalli che tutti gli anni facevano questo. Il cavallo nero e il cavallo bianco. Ma su questi due colori lei ha giocato spesso, arrivando spesso all'osso delle questioni. O bianco o nero. O di qua o di là. L'insieme delle due visioni sono due... Insomma, bisogna far capire le cose. Non bisogna essere ermetici. Bisogna cercare di essenzializzarmi, a togliere, togliere, togliere. Finché è così semplice che ti diranno, guarda, avrei potuto farlo anch'io una roba così. Sì, sì. Cioè, più mezzi si hanno, più mezzi, più libertà si ha. Meno di un mese fa ero all'MIT di Boston. All'MIT a fotografare i giovani, là il massimo degli scienziati, tutto il mondo. Ogni tanto vado perché fa bene vedere questi giovani che studiano. E ho fatto una conferenza sulla comunicazione. Gli ho detto... C'è davanti a me una matita. E ho alzato la matita, una Coiner gialla, B2. E gli dico... Qui avete un computer, no? Il più potente che c'è... C'è lì, ha la matita. È più potente questa matita o il vostro computer? Silenzio. Questi geni, i modelli, i fregati. Allora dico... Sì, la matita sì. L'ho rotta in due. È ancora più potente. Potrei andare avanti. Allora, il problema della tecnologia, dove tutti i giovani si perdono, e lo dico anche per esperienza, ho fondato Fabrica, insomma ho fatto dei centri di ricerca della comunicazione. Il problema della tecnologia è che purtroppo ammutolisce i giovani. Perché se tu vuoi immaginare, non devi guardare il computer, devi chiudere il computer se vuoi immaginare. Cioè l'immaginazione è molto più potente del computer. Quindi, se vuoi immaginare il futuro, devi usare il tuo cervello, il tuo cuore, quello che hai, le tue energie. Però se vuoi sapere, da adesso alla preistoria, col computer, è un imbecille veloce in realtà il computer. Non è nient'altro che un imbecille veloce. Allora, velocemente o piano, andiamo avanti così, vediamo dove arriviamo con i giochi. Piccoli passi. Ecco la piccola città. Allora, la piccola città di Toscana, io penso che sia un poche case, il paese vicino, però è stato anche a New York. Sì. Io sono andato a Milano. Il Chelsea Hotel. Ho vissuto al Chelsea Hotel. Al Chelsea Hotel Factory con Andy Warhol. Sì, sì. Ero lì all'inizio del 70. Qual è la città che ricorda con più passione, in fondo? È la città di Milano, la sua città? Oppure New York? No, Bombay. Bombay. Città qui. No. Devo dire che la città che mi affascina più è Mexico City. Incredibile. 20 milioni di abitanti. Non ha confini con la città. No, è la combinazione dell'inferno e del paradiso in una città. Allora, lì non sei condannato all'inferno e al paradiso. Sei finalmente... È incredibile. Beh, questa è la città. È chiaro. Poi uno dice New York ha il suo fascino. Non vivrei più a New York, però. Devo dire che ho sempre un posto a Parigi che mi piace. Parigi mi piace perché a Parigi c'è il passato, al presente c'è il futuro. New York è diventata molto modaiola. Non c'è niente di peggio di essere modaioli. Però non erano modaioli quelli del Chelsea Hotel, Tom Waits, Bob Dylan che è forse suo coetaneo. No, Blue Reed. Blue Reed. No, Bob Dylan è un mio coetaneo. Io partengo a quella generazione lì. È là che elettricità si respirava, il Chelsea Hotel. Beh, era un pre-AIDS, quindi già non c'era questa... non c'era questa follia della sesso e morte combinato come è arrivato l'AIDS. E quindi c'era un modo di rapportarci molto divertente. e poi adesso così si mitizza tutto questo come all'inizio degli anni 60 a London, Swing in London. Swing in London? Io sono stato sei mesi a Royal College, eravamo in 300 a King's Road. Il resto dell'Inghilterra, di Londra, è una città tristissima. Pioveva sempre, c'era la nebbia. E adesso si mitizza come se fosse stato tutto così. E così era New York. perché anche quella era un enclave di qualche centinaia di persone che viveva downtown, Chelsea e così, che pensava che la vita avrebbe dovuto essere vissuta così. L'abbiamo vissuta così, è andata bene. Ah sì, direi proprio di sì. Facciamo una canzone di Lou Reed, Little Town. Dice, se sei nata in una piccola città è meglio che te ne vai. Cinque. Uno, due, tre, quattro, cinque. La libreria. Ecco, la libreria. Vabbè, allora, la libreria hanno scritto in tanti, devo dire, su Oliviero Toscani. Anche Pierpaolo Pasolini, che era una bella mente acuta, proprio in riferimento a quella fotografia che abbiamo citato della Jeans e Jeansus. Forse la gente a casa, prima l'abbiamo evocata questa fotografia, dobbiamo descriverla. Il sedere di una donna, una modella, Donna Jordan, la modella. Sì, la mia fidanzata. La fidanzata di allora. Io faccio tutto in casa, vedi? Siamo partiti con l'amore. E lo slogan, lo slogan era, chi mi ama mi segua. Che non è una frase di Gesù, sapete questo. Tutti sono cascati con questi fratelli. No, siccome la prima immagine del Jeans e Jeans era un jean visto davanti, con la cernierina un po' aperta e c'era scritto, non avrai altro jean all'infuori di me. E questo viene dalla Bibbia. La Bibbia è stata scritta perché non c'erano le macchine fotografiche. Perché se ci fossero state le macchine fotografiche, allora forse la Bibbia non sarebbe stata scritta così. se avessimo visto le vere fotografie della storia. Da quando c'è la fotografia c'è la vera storia. Ma si mitizza anche con la fotografia, comunque. Si può dare importanza. Sì, ma la scrittura ha parlato. Se fosse stata la fotografia di Gesù Cristo, non sarebbe stato Gesù Cristo per noi. Ma forse è meglio o peggio. Comunque Gesù Cristo è arrivato attraverso la Bibbia, il Vangelo, scrittura, uno racconta che il pesce era grande così. e lui magari era morto più grande o più piccolo. Comunque la fotografia. Allora, era una grande gira in fronte di me. Poi fece questa foto che invece fu usata veramente e ci fu questo sedere con questi short fatti apposta. Peccato che non abbia fatto una fotografia di quello da davanti per far vedere quanto li avevo tirati, per farli diventare così piccoli e farli aderire a questo sedere. E ci fu questo scandalo. Avevamo tutti contro. Maurizio Vitali, che era padrone della Jesus Gene, della roba di cappe, e io. Per non parlare della Chiesa, ovviamente. Della Chiesa, Vaticano. Sì, c'è stato un Vescovo siciliano. Un scandalo. E finché la mattina mi chiamano alle 7 mattina e mi dicevo, Olivero, vai e compra il Corriere. Guarda che c'era una prima pagina, il Gesù dei Blue Jeans abbattuto il Gesù del Vaticano. Esatto. Pier Paolo Pasolini. E chi è questo? Scritto Corsaro. Scritto Corsaro. 72, 73. 73. Ma la tesi di Pasolini era... Aveva ragione lui. Perché Pasolini diceva una cosa... Cominciava una nuova morale nel mondo del consumo, nel mondo... Prima diceva che quella fotografia ha segnato una rottura di un'epoca, quella rurale, clericale, fascista, possiamo dire, con una nuova forma di fascismo, che era quello, la sua tese, era quello omologante della società dei consumi e dell'edonismo. Dice, la nuova borghesia industriale poi finisce per strumentalizzare anche che i creativi come voi, che magari parteggiavate per il 68, però per imporre il mercato... Io sono un pre-68, io. No, no. Io sono un pre-68. Un pre-68. Devo direi 68 mi hanno... Però era tosta la tesi di Pasolini. Eh sì, sì. Ma anche lui era un pre-68. Lei si è mai sentito strumentalizzato in fondo da questa nuova forma di mercato, che aveva bisogno di abbattere la morale della chiesa per vendere prodotti, insomma. Perché quella ragazza prima stava in chiesa adesso si mette i jeans. Attenzione, io non sono quello contro il mercato. Nel mercato non è che si va solamente per guadagnare e per vendere. Al mercato si va anche per incontrare la gente, per amarsi, per capirsi, per imparare le lingue, per... Però di fronte a quell'editoriale come c'è rimasto? Ma non era così fondamentalista, no. Riconosceva che esiste un mercato, prima di tutto, e che esistono i committenti. Cioè senza il Papa, senza la chiesa, non ci sarebbe tutta l'arte del rinascimento. Non è che Caravaggio si è fatto strumentalizzare, ma per fortuna l'ha strumentalizzato. Se no, avrebbe potuto esprimersi. Il problema è che questo rapporto potere-arte è importantissimo. Bisogna farsi strumentalizzare, però bisogna trascendere la strumentalizzazione. Allora diventa arte. Se no, si è solamente strumentalizzato. Quello che fanno i pubblicitari. Sono solamente strumentalizzati. Allora, fra le tante fotografie che ha firmato Liviero Toscani, poi alcune le ha anche prese e le ha sottoposte all'attenzione, perché anche questo può fare il fotografo. Forse non c'è differenza fra individuare una fotografia e proporla e scattarla. Scegliere un'immagine. Allora, noi abbiamo scelto un'immagine e penso che poi arriverà a capire. Adesso la mandiamo. Ed è un'immagine che ci riporta al 24 ottobre del 2001 un rogo tunnel del Gottardo, autostradale del San Gottardo. Ed è questa un'immagine che è stata scattata da un addetto alla manutenzione stradale, quindi non da un professionista. E lei in quel rogo ha rischiato di finirci. Era dietro quel camion. Era la prima macchina dietro quel camion. 11 morti e Olivero Toscani se la scampa voltando. No, sono partito a Lugano per andare a Parigi e dico a mia moglie facciamo il Gottardo perché l'ho fatto tante volte quando studiavo a Zurigo estate, inverno. Voglio fare il Gottardo passando sopra. Una giornata blu, bellissima. E parto con la macchina scoperta con mia moglie. E al Gottardo era un po' di tempo non passavo, era nuovo, era rifatta l'intera della galleria. Mi sono ritrovato in galleria dietro un camion con mia moglie che diceva ma come facciamo la galleria scoperta e senti che odore. Era dietro un camion stranissimo che ondeggiava un po'. E non so, anche per istinto mi sono tenuto a distanza. era sporco, proprio come duel nel film di Spielberg. Un po' così. Lavoro di tesi di Spielberg, capolavoro. E a un certo momento questo camion qui ha fatto... Io ero dietro, ho girato la macchina e ho fatto... Sono corso fuori e ho bloccato... Ma questa... Che cosa le dice questa fotografia? Dice che... Che questa è la realtà. Insomma, se non ci fosse la fotografia sarebbe difficile spiegare. Da quando esiste la fotografia ormai la realtà è ciò che rimane in fotografia. Perché i nonni sono sempre vecchi? Perché si attacca l'ultima fotografia del nonno. ho vietato i miei nipotini di attaccare la fotografia e gli ho dato una fotografia quando avevo 25 anni e imparate a essere così. E anche la nonna. Poi la nonna era uno schianto a 25 anni. Però questa fotografia ci dice anche che uno può non essere un professionista dell'immagine per consegnare la storia a un'immagine. Allora, si dice uno scrittore. Cosa si intende per scrittore? Non è uno che sa scrivere con la matita o con il computer con la macchina da scrivere. E' uno che è un autore uno che fa qualcosa è un poeta è uguale alla fotografia tutti fotografano tutti sanno fotografare ormai è là anzi devo dire che è l'arte più facile che ci sia a fotografare. Però anche qua ci sono gli autori e quelli che fotografano e basta. Ci sono non so come dire ci sono quelli che fanno jogging e corrono attorno alla casa e ci sono quelli che corrono e vanno da qualche parte e vanno lo stesso numero di passi. quindi devi decidere dove vuoi andare. E noi purtroppo dobbiamo andare alla conclusione di questo incontro libero-toscani siamo niente non abbiamo fatto un giro perché andava uno uno nella vita va forte e i dadi un po' più mi sono sempre piaciuti i dadi è l'unico gioco che mi piace e adesso l'auto la prende e va a dove? a Zurigo oppure in Toscana Milano? Toscana sì ma in Toscana tra i cavalli sì un giorno poi subito lavorare faccio il mio masterclass a Volterra quindi devo prepararlo sì grazie Libero Toscani per essere stato con noi e grazie anche a voi abbiamo raccontato un po' di storia con qualche immagine buona serata grazie